Proseguiamo ancora con il prossimo ospite e diamo il benvenuto ad Ale Giorgini, illustratore e designer. Ha collaborato con Brand di Alto Livello, Darmania Martini, e pubblicato su importanti giornali americani e italiani. Ha vinto il Good Design Award del Chicago Museum of Design 2017. È fondatore di Illustri Festival. Circa di 70 leghe alla detta via, in 12 gradi di latitudine e 146 di longitudine, a 6 di marzo vi scoprissimo un'isola al maestrale piccola e due altre al Garbin. Una era più alta e più grande delle altre due. Il capitano generale voleva fermarsi nella grande per pigliare qualche refrigerio, ma non poté, perché la gente di quest'isola entravano nelle navi e rubavano chi una cosa, chi l'altra, talmente che non potevamo guardarsi. Volevano calare le vele, a ciò andassimo in terra. Ne ruborono lo schifo che stava legato da poppa della nave capitana con grandissima prestezza. Per il che, corrucciato, il capitano generale andò in terra con 40 uomini armati e brusarono da 40 o 50 case con molti barchetti e ammazzarono sette uomini e riebbe lo schifo. Subito ne partissimo seguendo lo medesimo cammino. Innanzi che dismontassimo in terra, alcuni nostri infermi ne pregorono. Se ammazzavamo uomo o donna li portassimo gli interiori, perché subito sarebbero sani. Quando ferivamo alcuni di questi con gli verrettoni, che li passavano li fianchi dall'una banda all'altra, tiravano il verrettone mo' di qua, mo' di là, guardandolo. Poi lo tiravano fuori, meravigliandosi molto, e così morivano. E altri che erano feriti nel petto facevano il simile. Ne mossano a grande compassione. Costoro, vedendone partire, ne seguitarono con più di cento barchetti più di una lega. Si accostavano alle navi mostrandone pesce con simulazione di darnelo, ma traevano sassi e poi fuggivano. Andando le navi con vele piene, passavano fra loro e li battelli con quelli suoi barchetti molto destrissimi. Vedessimo alcune femmine negli barchetti gridare e scapigliarsi, credo per amore degli suoi morti. Ognuno di questi vive secondo la sua volontà. Non hanno, signore. Vanno nudi e alcuni barbati, con i capelli negri fino alla cinta ingruppati. Portano cappelletti de palma come gli albanesi. Sono grandi come noi e ben disposti. Non adorano niente. Sono olivastri, ma nascono bianchi. Hanno gli denti rossi e negri perché la reputano una cosa bellissima. Le femmine vanno nude, se non che dinanzi alla sua natura portano una scorza stretta, sottile come la carta, che nasce fra l'albore e la scorza della palma. Sono belle, delicate e bianche più che gli uomini, con i capelli sparsi e lunghi, negrissimi fino in terra. Queste non lavorano, ma stanno in casa tessendo store, casse de palma e altre cose necessarie a casa sua. Mangiano cocchi, batate, uccelli, fichi longhi uno palmo, canne dolci e pesci volatori con altre cose. Se ungono il corpo e i capelli con olio de cocco e di giongioli. Le sue case sono tutte fatte di legno, coperte di tavole, con foglie di figaro de sopra, lunghe due braccia, con solari e con fenestre. Le camere e li letti, tutti forniti di store bellissime de palma. Dormono sovra paglia molto molle e minuta. Non hanno arme, se non certe aste con un osso pontino de pesce nella cima. Questa gente è povera, ma ingegnosa e molto ladra. Per questo chiamassimo queste tre isole le isole degli ladroni. E il suo spasso è andare con le donne per mare con quelle sue barchette. Sono come le fucelere, ma più strette. Alcune negre, bianche e altre rosse. Hanno dall'altra parte della vela un legno grosso, pontino nelle cime, con pali attraversati che li sostentano nell'acqua per andare più securi alla vela. La vela è di foglie de palma cucite insieme e fatta a modo della latina. Per timone hanno certe pale, come da forno, con un legno in cima. Fanno della poppa prora e della prora poppa. E sono come delfini nel saltare all'acqua de onda in onda. Questi ladroni pensavano, agli segni che ci facevano, che non fossero altri uomini al mondo se non loro. grazie. 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 Grazie.